Il Palabrilia ritorna a respirare aria di grande volley grazie ad un appuntamento di prestigio con la disputa della gara amichevole tra l'Accademia Volley Sant'Anna Messina, ex squadra della palavolista corissanese Valentina Martilotti, e il Melendugno Volley neopromossa nel campionato di Serie A2 femminile dell'ex allenatore del volley coriglianese Bruno Napolitano. Le due squadre hanno scelto di disputare incontro al Palabrilia, uno dei tempi della pallavolo calabrese, a metà strada tra la Sicilia e la Puglia per testare le condizioni atletiche e fisiche prima dell'imminente inizio di stagione.